E di poche ore fa la denuncia del forum H2O di uno scarico a Fosso Vallelunga, al confine tra Pescara e Francavilla. Come siete arrivati a scoprire questo nuovo scarico De Santis? Beh, è stato in realtà semplice perché ci hanno chiamato dei residenti che erano, diciamo, inorriditi dalla puzza naosabonda che proveniva da alcuni giorni dal torrente. Noi siamo andati ieri sera e effettivamente c'era una puzza incredibile e si vedeva proprio uno scarico, le nostre immagini che abbiamo subito ripreso, insomma, sono inequivocabili anche perché si vede uscire anche cose, insomma, rifiuti non certo edificanti. Ecco, abbiamo chiamato subito i carabinieri forestali, devo dire che, insomma, abbiamo dovuto molto insistere per far venire i carabinieri a fare i prelievi immediatamente, che ci hanno detto che sarebbero venuti il giorno dopo, chiaramente magari lo scarico finiva e si sarebbero perse le prove, diciamo così, quindi abbiamo preteso, diciamo, e sono arrivati verso le 11 di sera e hanno fatto la raccolta dei campioni, però c'è da dire che è a 300 metri dalla foce del Valle Lunga. Nella zona antistante il Fosso Valle Lunga hanno riaperto alla balneazione pochi giorni fa con un provvedimento della regione, a nostro avviso, vedendo anche quello che è accaduto appunto ieri, quanto meno inopportuno, perché quel tratto del litorale è classificato scarso, perché il Valle Lunga più volte nel passato ha dato di questi problemi. La legge europea dice che bisogna risolvere alla radice i problemi di contaminazione prima di riaprire la balneazione, evidentemente questo scarico è testimonia che non è stato risolto. A questo punto cosa farete? Noi abbiamo già scritto stamattina anche all'ACA, alla regione, al comune, per chiedere anche al Ministero della Salute, insomma anche un po' per contestare questo provvedimento della regione Abruzzo e chiaramente adesso essendoci uno scarico, diciamo, segnalato, devono prendere i provvedimenti di cautela per la salute dei cittadini, soprattutto per gli aspetti della balneazione.